stando a quanto riportato l'accesso all'account è temporaneamente limitato con una sospensione globale dell'account e la sospensione globale dell'account a tempo indeterminato è in realtà una sospensione che viene molto spesso data per sette giorni a twitch da twitch agli account in generale se tu vai a fare ricorso puoi renderla un tre giorni o puoi renderlo addirittura un giorno un 24 ore di ban ma alle volte come abbiamo visto con daniele come abbiamo visto con sdrumox il ban può invece essere essere un ban infinito o comunque piuttosto lungo di quattro anni questa è una roba assurda ma vabbè anche perché sembrerebbe che il ban di omiatol sia stato dato poverino a cui mando un bacione omiatol è tornato letteralmente una settimana fa a stremmare e poi omiatol non è una persona che strema spesso si mette lì e via dicendo diciamo che segue il suo flusso di coscienza è un po' un william blake esce fuori quando ha voglia di dare levito a quella che sono le sue idee mentali e quindi il fatto che comunque ogni volta che ci provi venga in un certo senso fermato è un po' brutto però vabbè sembrerebbe che sia stato bannato perché aprendo discord o aprendo qualche immagine e sia uscita la foto di un uomo nero con questa forte mangusta con questo forte enorme pisello scappellato scappellato un cazzone scappellato molto venoso che sfortunatamente lo ha portato a un ban adesso io però devo dire una cosa devo dire che mi tocca in primis a me perché mi sono un pochino non rotto i coglioni per carità del cielo perché a me conviene sempre e mi fa sempre piacere una situazione del genere però io devo far presente che io non vengo bannato o facciamo le cose fatte bene seguendo le varie toss seguendo tutto quanto quello che dovrebbe essere eseguito o è inaccettabile che io non venga bannato per nessun motivo perché nel senso io non è che faccio cose against the toss quindi contro comunque le regole di twitch però è anche vero che se per una persona che apre un'applicazione e sfortunatamente visto che l'applicazione è piena di gente che ti segue ci sarà sempre qualche coglione che ti mette la foto di una tipa che viene inculata a sangue o di un cazzone venoso o di una fica aperta trova visto e visto che è successo anche a me io non sono stato bannato vorrei capire perché non venga io non vengo bannato nel senso che lo so perché non vengo bannato sono letteralmente la percentuale maggiore di twitch e tra le 10 persone più che fanno guadagnare di più le piattaforme al mondo per quanto assurdo per un italiano però dovremmo cominciare un attimino a regolarci con questa situazione perché una persona che apre discord e trova la foto di un cazzo non può essere bannata non è accettabile questa cosa l'abbiamo già vista con valkyrie l'abbiamo già vista con pochi mane che non è non venne bannata quando apri per sbaglio porn hub in stream cosa che comunque è in quel caso fece lei come errore e non venne bannata invece qui mi sembra che tante persone vengono bannate molto spesso io tanto spesso ho avuto nelle mie stream delle foto inaccettabili date appunto dai fan perché magari su tiktok uno si mette la foto di una tipa con le tette di fuori e mi comincia a taggare all'infinito su delle su dei tiktok tale che io quando vado a vedere tra le menzioni vedo queste tette di fuori e si vedono in stream e io non vengo mai bannato né tantomeno quando ad esempio e me lo ricordo bene questo durante il pogchamp italiano di scacchi che ho vinto scusate montema quanto te pare ma tanto ripi il cazzo un'altra volta insieme a paolo cannone tiz quest'anno durante il pogchamp io ero distratto ma c'era un ragazzo che mi continuava ad invitare in basso a destra con la foto di un pisello scappellato e quindi allora perché io non devo essere bannato perché faccio fare più soldi no perché avete bannato kaisenat bannate jinxi bannate xqc bannate tutte queste persone quindi o cominciate a stare un po più attenti anche su di me parlo più con il rapporto il report italiano perché vuoi o non vuoi non hanno forza ma comunque devono mandare loro il primo report sugli streamer o non va bene non va bene che vengano bannate persone come omiatol per una cazzata che fa che può succedere a tutti nel momento in cui non c'è la voglia effettivamente dello streamer di essere bannato perché un conto è una persona che magari fa qualcosa di appunto sbagliato o comunque sa che è molto borderline un conto è una persona che semplicemente è balia di quella che è la sua fanbase perché ricordiamo visto che sembrerebbe che al momento io sia il capo espiatorio di tutte le persone quando si tratta di avere una fanbase brutta perché tutti ti insultano al primo messaggio quando ehi sfortunatamente le persone ci mangiano col fatto che io ho letteralmente cario twitch con tutto il rispetto del mondo bisogna bisogna anche comunque ricordare che le persone hanno una fanbase che sfortunatamente sia piccola o sia grande avranno sempre delle persone che so dei tumori di merda ok che è vero i tumori sono brutti ammazzano le persone quindi so dei tumori di merda le persone alle volte fine so serio assolutamente certo che so serio preferirei essere bannato cioè io vorrei essere se io faccio qualcosa di sbagliato o comunque faccio qualcosa di sbagliato che per me non è sbagliato ma comunque è sbagliato per le toast di twitch io voglio essere bannato perché non mi sembra scorretto che banni in una persona come omiatol perché apre per sbaglio la foto di un cazzo venoso non sapendolo e io invece mi si vede un cazzo venoso in stream e non vengo bannato perché perché faccio far più soldi alla piattaforma ho capito che funziona così perché funziona così perché twitch sta in rosso ma che cazzo me ne frega porco dio allora che devo fare veramente come pochi mani che si è messa a non stream ma perché si è auto inflitta il ban ho tutta l'amore del mondo ma nel senso se devo anche pensare a come auto moderarmi dopo che già vengo moderato da una chat da persone che si mettono lì in in completa autonomia e io rega non ce la faccio tutta l'amore del mondo iscriviti al canale iscriviti al canale